ciao a tutti di facebook e che mi seguite su tutti i social allora voglio fare questa dieta innanzitutto per mandarvi il buon tutto e per salutarvi insomma prima che vado a dormire e poi per avvisare a tutti gli uomini che per l'ennesima volta io mi sono rotta davvero che ci dovete provare con me che mi dovete messaggiare su messenger pure che io odio le chat e non mi piacciono le chat le chat le uso solo per lavoro se mi chiedete informazioni per lavoro ma io mi dovete scrivere in pubblico ma non per fare amicizia perché non credo in amicizia tra uomo e donna su questo sono proprio inflessibile inflessibile e scettica ecco quindi prima di provarci con me prima conoscetemi a fondo vedete a cosa ho più interesse in questa vita per il momento non ho interesse ad altri uomini per un rapporto no no e non sarà mai così a me piace solo uno e basta nella mia vita e basta io so a chi tengo nella mia vita alle persone che tengo le altre persone che mi mandano di uomini che mi mandano baci le richieste di conoscenza su facebook o su qualsiasi altro social dove sono non verranno accettate punto primo perché io sto cercando di eliminare dalla lista qui conoscente di facebook le persone ecco soprattutto le persone che non mi iscrivono mai soprattutto perché voglio circondarmi di persone che ci vado d'accordo io che mi servono per affari ecco soprattutto non tanto per chiacchierare anche per chiacchierare ma per queste cose insomma soprattutto per 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 guadagnarci ecco intendiamoci grazie Ersilia del saluto grazie dei cuoricini Ersilia ti voglio tanto bene Ersilia volevo dire questo volevo dire questo perché gli uomini per me siete tutti provoloni dovete imparare prima di provarci con una donna dovete vedere di conoscere la sua vita la sua vita impararsi a raccontarsi con le persone questo è per tutti eh sia femmine che maschi di raccontarsi con le persone perché se non vi raccontate qui sui social una persona come fa a fidarsi un giorno ad uscire con voi io non mi fido io non mi fido per esperienze mie non mi fido preferisco prima conoscerla a fondo qui una persona e poi valutare se continuare la conoscenza anche fuori da i social oppure no io la intendo così in questo modo la penso in questo modo per quello che ho subito fin da piccola ecco quindi sia bene chiaro queste cose sia bene chiaro queste cose che se faccio un fotomontaggio di mia madre e mandate un cuoricino a mia madre uomini io vi ringrazio a nome di mia madre non ha il nome mio anche se sta a nome mio perché mia madre non ha un suo profilo non ha più un suo profilo qui su facebook allora uso io il mio profilo per mettere anche cose di mia madre ecco così è così è non è che poi quando vi rispondo grazie allora pensate allora questa bisogna provarci perché ci sta no una donna non ci starà mai se non vi conosce a fondo non ci starà mai siete sempre provoloni uomini sempre provoloni siete non imparate mai come si corteggia una donna non imparate mai e poi non imparate mai anche a vedere se una donna vuole essere corteggiata se ci vuole stare con voi perché perché magari quella donna magari ha la testa impegnata con un altro uomo magari ama un altro uomo e non lo sapete e anche se ama un altro uomo e si mette single è perché in questo momento è single può essere anche in attesa di una scelta una donna anche se ci vogliono anni per farmi scegliere da un uomo non me ne frega niente perché io quando sono innamorata aspetto anche tutta la vita aspetto tutta la vita l'uomo che amo volevo dire questo perché io sono molto rara come donna molto rara ma schietta diretta non me frega niente devo dire le cose onestamente come stanno io è così ma avete rotto proprio uomini ma avete proprio rotto con le vostre avanze capito capito quindi come fate voi qui nei social io non mi non mi ci rispecchio in questa società non mi ci rispecchio perché io mi rispecchio in una società come voglio io anzi ci dovrebbero essere in questa società in tutta Italia in tutte le città d'Italia anche i piccoli paesini ci dovrebbero essere non solo i bar per la gente normale ma anche i bar o luoghi per chi non fuma per chi non beve alcolici per chi non si droga anzi la droga non ci deve essere proprio deve essere proprio abolita come deve essere abolito il fumo come deve essere abolito gli alcolici perché sono tutte cose che non fanno bene alla vita rovinano la vita magari non subito quando iniziate ma continuando sempre con questo vizio vi rovinate la vita vi volete fare anche allontanare da chi non fuma non beve alcolici non si droga anzi chi non fuma e non beve alcolici non si droga quando vai in giro per il paese e vede qualcuno che fuma vedete sempre che fa zic e zac per non per non farsi impuzzolire ecco e magari sta allontano anche 20-30 metri cioè perché non è solo che sta lontana perché adesso c'è il covid ancora in giro non è per questo solo ma anche per questo motivo perché una persona salutista non ama fumare non ama bere alcolici e non ama drogarsi ecco perché ci tiene a se stessa e ci tiene all'altra persone è solo chi non ci tiene che se ne frega e continua nei vizi schifosi di questa società io la penso così ecco perché una persona può essere bella fisicamente ma tocca vedere se è bella se la volete come se la volete proprio proprio come persona poi nella vita perché di solito una come me quando sentono certi uomini che io sono per formare famiglia dopo il matrimonio perché io ho fatto tutti i sacramenti quando facevo catechismo ho fatto tutti i sacramenti da vergine la gente comincia a dimmi buona fortuna gli uomini soprattutto buona fortuna buona vita auguri ciao oppure scappano senza salutare ecco oppure quando ho creato quel gruppo donne etero maggiorenni per vera amicizia di tutto il mondo donne etero maggiorenni di tutto il mondo per vera amicizia dimmi si prende per stupida per pazza perché ho creato quel gruppo secondo la gente ma sappiate che io non sono stata fortunata nella mia vita da piccola non sono stata per niente fortunata io l'amiche donne non ce l'ho non ce l'ho fisicamente fisicamente dal vivo capito ce l'ho lontane ce l'ho lontane chilometri qualcuna qualcuna cioè io non ho una vita sociale però piano piano credo che quest'anno che verrà nel 2022 potrei riuscirmela a creare una vita sociale può darsi può darsi dico solo questo ecco ecco ma perché avrò anche oltre i miei genitori vicino avrò anche chi voglio io ecco che mi aiuterà ecco dico solo questo e non dico altro chi vuole capire capisca chi non vuole capire non capisca questo discorso che ho fatto però io voglio essere onesta e chiara mi sono stufata degli uomini che ci provano con le donne ecco perché è inutile che poi vi lamentate che le donne non ci stanno con voi non sapete farci con noi donne non sapete farci non sapete farci mica le donne sono tutte uguali ci sono delle rarissimi casi di donne come me che sono rarissime che sono molto rare anzi quando una donna vi dice che è vergine non di segno zodiacale dovete essere felici che ve lo dica però sappiate che una donna così sarà solo per un uomo nella vita solo per un uomo non per altri gli altri possono essere tutti conoscenti ma io nella mia vita un conoscente profondo ce l'ho questo voglio dire con questo discorso io spero di essere stata chiara perché voglio che vi entri in testa a tutti a tutti che non ci dovete provare con me infatti stasera ho dovuto bloccare uno qui perché aveva messo sì il cuore a mia madre sotto il fotomontaggio allora gli ho detto grazie per l'educazione perché a me mi hanno insegnato l'educazione i miei genitori e anche quando ero a scuola gli hanno insegnato l'educazione ecco e io ho risposto grazie questo a un certo punto mi ha scritto vuoi accettare il mio invito e ho detto già cominciavo a pensare ma che cacchio vuole questo già cominciavo a pensare che cacchio vuole allora gli ho detto quale invito ecco e mi ha risposto vuoi accettare la mia richiesta di amicizia ah lì appena sento la parola amicizia mi mi vanno a fuoco gli occhi in modo simbolico detto da un uomo l'ho appreso e bloccato in tronco e non contento ma aveva scritto anche in privato su un messenger non contento eh ma devono stare attenti gli uomini così verranno bloccati da me se si comportano così ecco ecco qua non è che perché una vi mette grazie al cuoricino che mandate allora dovete prendere tutta la mano cioè e farvi prendere dall'eccitazione e a tenitura cominciarmi a fare i complimenti in privato sei bella accetta la mia amicizia e così scusi a questo uomo qua a questo essere a questo essere chi vi ha dato l'autorizzazione di farmi complimenti chi ve l'ha data l'autorizzazione chi ve l'ha data ma sapete leggere i post che metto sul mio facebook e sul mio diario scorre di tutti quello che posso trovare un po' di tempo per leggere bene con attenzione quello che scrivo chiedo solamente questo un pochino di attenzione a quello che scrivo ecco perché non scrivo fesserie scrivo proprio quello che sento istintivamente quello che sento quello che che intendo io le mie idee è come mettere su su carta bianca qui è come se ci avesse un diario mio segreto che ci metto i miei sfoghi ma siccome non ce l'ho il mio diario segreto per metterci i miei sfoghi mi sfogo come mi pare piace ecco e anche se oggi è la giornata dell'amicizia dicono non è la giornata dell'amicizia con gli uomini per me ma con le donne perché io quando si tratta della giornata dell'amicizia io la mando solo alle donne l'amicizia alle donne etero perché almeno non ci devo provare e almeno non c'è nessun nessun rapporto con le donne mentre con gli uomini è diverso è molto diverso ricordatevi Dio quando ha creato l'uomo e la donna ha detto andate e procreate ecco accoppiatevi andate e procreate ricordatevi questo passo della Bibbia ecco o del Vangelo adesso non mi ricordo se Bibbia o Vangelo non mi ricordo ecco io sono così sono così eh io sono un muro un muro a me se piace una persona un uomo e sono affezionata a quell'uomo io sarò a vita affezionata a quell'uomo vedrò solo quell'uomo e se non mi vuole quell'uomo ok so che non ci abbandoniamo con quell'uomo so che non ci abbandoneremo mai però però eh sarò sarò che non potrò dare i nipotini ai miei genitori ecco perché non riesco ad amare un altro uomo come amo il mio primo amore ricordatevelo questo ricordatevelo perché se una persona una donna deve amare deve amare con sentimento profondo deve amare ciao ciao Roberto Biancardi una donna deve amare con sentimento profondo deve deve avere ispirazione per delle poesie pure perché siamo un uomo gli vengono le poesie ispirate proprio a quella persona cosa che a me sta succedendo da sempre da anni ormai perché io quando tengo a un uomo è difficile che mi che mi scrollo dalla testa l'uomo che amo molto difficile molto specie se so che quell'uomo non non beve alcolici non si droga e non fuma ecco e mi rispetta per il mio credo nel senso nel credo sacro di arrivare vergine al matrimonio e poi prima del matrimonio del fidanzamento tocca pensare prima al lavoro a trovare una stabilità lavorativa ed economica ecco e poi pensare ad altro ecco questo voglio dire semplicemente questo queste cose qua questo è il mio discorso spero sia stato chiaro onesto diretto e che sia arrivato al cuore delle persone Michele Orlandini ciao ecco ascoltate chi si sta mettendo adesso qui nella mia diretta ascoltate cosa ho detto dall'inizio eh di questa diretta e poi potete capire il mio discorso io qui sui social non ci sono per trovare un ragazzo no non ci penso minimamente non ci penso minimamente io questi giorni sto mettendo annunci di lavoro su siti di annunci gratuiti per ampliare una rete di un mio shop ecco per trovare clienti per trovare collaboratori che lavorano sotto di me che mi facciano guadagnare è questo che io sto cercando di farvi capire io qui non ci sono solo per passare tempo così facendo dirette per chiacchierare io cerco di di come si dice di mandare anche curriculum ecco in qualche posto di lavoro cerco di fare tante cose per tenermi occupata la giornata perché sennò starei sempre male ecco io qui ho bisogno di gente che mi parli come conoscenza per passare tempo che magari un giorno se ci si conosce proprio bene 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 a fondo ci si può anche incontrare non si sa mai nella vita ecco qua qui a Gorla Maggiore stasera c'è stato un blackout che è durato un po' e poi è ritornata la corrente ecco non so se in tutto Gorla Maggiore è successo questo non lo so però sono scattati anche degli allarmi qua intorno non so da voi fatemi qualche domanda pure voi qua se qualcuno mi sta ascoltando fatemi qualche domanda siate un po' curiosi a conoscere le persone cioè non è che vi posso raccontare tutto io così eh se mi fate qualche domanda io vi rispondo e magari mi vengono in mente anche tante altre cose se no certe volte perdo anche le parole e non so più di cosa parlare ah poi voglio dirvi che su youtube ho messo due nuovi video uno del mio discorso sul marketing che è condiviso che ho fatto ieri di video e basta che cercate Valentina Ripanti marketing che è condiviso come lo vedo io e l'altro invece di di un nuovo social eh tutto italiano face chalk ecco si chiama e lo potete usare sia web e sia con l'app ecco è molto bello intuitivo bellissimo semplice da usare e si guadagna soldi quando si arriva a 50 euro si prelevano i soldi penso su paypal ecco io adesso sono arrivata solo a 18 centesimi ecco ho iniziato ieri e l'ho scoperto ieri e l'ho iniziato ieri ad usarlo questo nuovo social ecco e non l'ho scoperto navigando sui browser ecco di navigazione tipo maxstone tipo chrome tipo internet explorer oppure fivefox o i cosia ecco io l'ho scoperto su tiktok perché uno uno cioè no su tiktok che sto dicendo su instagram perché uno un vip ha pubblicizzato ha pubblicizzato questo social ecco e allora per curiosità mi sono voluta iscrivere pure io e ho postato alcune cose ecco se volete cercarmi anche lì sono chiocciola valentina 85 e mi trovate dai forza ciao a tutti Ersilia cara questo bacio è per te da parte di tutti noi ok Grazie.